Allora, Mimola Sorsa, che emozione si prova ad essere il nuovo sindaco di Ortanova? È un'emozione grandissima, anche perché è una situazione inaspettata, sperata e chiaramente dopo soltanto tre mesi non pensavamo di ottenere questo risultato. È un'emozione, è una contentezza enorme, è una contentezza mia ma soprattutto di tutti coloro i quali mi sono stati vicini in questo momento. Durante tutto questo percorso, che non è stato lunghissimo, però è stato tale che è riuscito a compattare, a rendere coesa una squadra che ha creduto sin dall'inizio al progetto. Il progetto che abbiamo portato avanti, quello della città educativa. Il progetto che cercheremo e dovremo in tutti i modi cercare di realizzare nei primissimi cento giorni. Alcuni punti verranno presi subito di petto e affrontati e vedremo un pochettino di poter portare a realizzazioni, almeno quelle che sono le problematiche, un pochettino più critiche che dobbiamo affrontare per il nostro paese. L'emozione è anche di aver riportato il centro-sinistra alla vittoria dopo davvero tanti anni. Sì, c'è anche quello, ma è una situazione che non marginalizzerei troppo al centro-sinistra. Il nostro è stato un discorso che ha saputo cogliere il consenso anche al centro, un consenso a 360 gradi. La gente che ci ha votato è stata la gente che ha votato d'opinione, non c'è stato un voto esclusivo d'appartenenza politica. È una gente che ha creduto in noi, è un nuovo modo di fare politica e chiaramente è una politica che riuscirà comunque a convogliare all'interno anche gente che non ha appartenenze oppure simboli politici. I tempi per la presentazione della giunta adesso quali saranno? I tempi canonici, lasciateci festeggiare e adesso vedremo quanto prima di presentare la squadra. Messaggio all'altra parte che esce sconfitta da questo ballottaggio e all'opposizione e a tutti coloro i quali si sono candidati anche al primo turno. Chiaro che io sarò il sindaco di tutti, chiaramente sarò il sindaco anche dei cittadini che non mi hanno votato. Faccio comunque i complimenti e gli auguri ad Antonio Di Carlo e a coloro i quali chiaramente nel Consiglio siederanno sugli scranni dell'opposizione. Chiaramente l'opposizione è un'opposizione costruttiva, terremo conto anche delle proposte, se ci saranno delle proposte valide, terremo conto di tutto questo. Pensiamo sempre a un fatto di tipo costruttivo nell'interesse e nel bene della comunità. Giornata storica per Ortanova, quest'oggi nuovo sindaco e l'Ortanova che va per la prima volta in eccellenza nel calcio, una grande notizia. Ortanova si confronterà con le grandi piazze del calcio direttantistico, c'è il campo sportivo che necessita dei lavori, si dovranno ultimare. Quale sarà l'impegno di questa amministrazione? Ci impegneremo anche per questo, chiaramente, perché bisogna comunque supportare questo tipo di situazione. Il calcio è sempre un aspetto molto positivo all'interno di una comunità, siamo contenti per questa promozione della squadra e quindi cercheremo in tutti i modi di realizzare, di portare, diciamo, di realizzare al meglio quello che deve essere appunto un impianto sportivo per supportare la nostra squadra. Cosa devono aspettarsi infine i cittadini da Mimola Sorsa? Tutto il bene possibile per la comunità. La nostra è una politica che va verso l'interesse comune, l'interesse di tutti, quindi aspettatevi solo questo.